che lo trasportano al bike via Pugini e vediamoci insieme per questo film e voi siete pronti, suoniamo insieme allora, mentre Dario fa l'ignorante questo è un pezzo sull'Eco Bonus visto da noi tecnici Shuffle 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 il momento di cantieri e cominciare una ristrutturazione installare dei radiatori seri riscaldare un po' la situazione quello che non avevo calcolato quanto da ventino avevo comprato sto potere, tanto bello da guardare e che nel mondo non può funzionare sciacato, mi stava il fresco sciacato, mi sopra il ghiaccio sciacato, ma lo faceva sciacato, c'è il casaccio sciacato, mi stava il freddo sciacato, mi stava il freddo